Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi vediamo i 5 motivi per scegliere una moto enduro. Prima di tutto vorrei dirvi che io sono un amante di tutti i generi di motocicletta ma credo che la moto enduro come prima moto sia la scelta migliore. Il primo motivo è la comodità della moto in primo luogo perché tutte le moto enduro garantiscono una buona protezione dall'aria all'inizio per i primi chilometri l'aria sembra quasi che ci accarezzi ma man mano che passano i chilometri l'aria è veramente qualcosa che stanca. Poi c'è la posizione di guida. La posizione di guida nelle moto enduro è eretta e all'interno della nostra della nostra colonna vertebrale ci sono come dei piccoli cuscinetti che se noi sediamo in posizione verticale questi cuscinetti vengono sfruttati per cui la nostra postura è migliore e anche ci affatichiamo meno. Come secondo motivo metto la possibilità di ospitare un passeggero alcuni di voi mi diranno ma io non sono fidanzato ma io non sono sposato. Sì questo è vero ma le cose cambiano e io credo che quando uno fa un investimento per comprare una moto debba vedere anche a lungo termine. Ecco gli spazi sono adeguati normalmente su una moto enduro ovvero il passeggero ha una sella comoda come abbiamo già detto ma soprattutto ha la possibilità di afferrare delle maniglie che lo possano sostenere non come le altre moto dove soprattutto quelle da strada dove veramente il passeggero si deve cercare di arreggere sul sul serbatoio e avere veramente una posizione scomoda. Poi c'è la possibilità di appoggiare la schiena sempre se viene viene utilizzata una borsa centrale cosa che io consiglio perché la borsa centrale insomma come faccio io è qualcosa lo capisco di veramente brutto ma è anche qualcosa di molto comodo sia per portare i propri oggetti durante il quotidiano ma anche come come base di appoggio per il passeggero. Al terzo punto metto la possibilità di affrontare viaggi lunghi e questo è possibile perché nelle moto enduro è possibile sempre agganciare delle borse che siano solide o che siano flessibili ma è sempre possibile principalmente sono la borsa posteriore centrale e le due laterali che riescono ad ospitare la maggior il maggior volume di oggetti il maggior numero di vestiti. I viaggi possono essere veramente lunghi ci sono persone che viaggiano da più anni ci sono poi la possibilità di montare altre borse tipo quelle borse da serbatoio oppure altre borse aggiuntive. Inoltre le moto enduro hanno tutte un'autonomia molto ampia hanno solitamente dei serbatoi grandi e vi garantiscono delle lunghe percorrenze. Inoltre vi è la possibilità di affrontare terreni diversi. Vi sono tanti tipi di moto da enduro dalle più stradali alle più fuoristradistiche ma tutte garantiscono la possibilità di affrontare almeno le strade bianche. Al quarto punto metto la bellezza delle moto. Le mie preferite sono quei modelli che si rifanno ai design delle moto che hanno partecipato alle competizioni più importanti tipo la parigi dakar. Al punto numero 5 metto la versatilità dell'utilizzo. Veramente queste moto possono essere utilizzate per qualsiasi motivo per andare al lavoro, per andare a un matrimonio, per andare in vacanza, per fare una gita. Una moto come la moto enduro è pronta per qualsiasi utilizzo e sempre. Finalmente siamo in grado di partire con i corsi sulle tecniche di guida su strada quindi per quelli che fossero interessati vi metto qui sotto l'indirizzo mail stefanocecchini1 chiocciola gmail.com. Ricordo che il costo per l'intera giornata di corso è di 200 euro. A questo punto se vi è piaciuto il video mettete un like come sempre e se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!